Bene amici, bentornati in questo canale, benvenuti in questo vlog, che è un vlog un pochino anomalo perché sono fermo in casa, in realtà sono in casa di mia mamma, perché? Perché da domani inizia il lockdown, domenica, che era il primo novembre, io e Leonora abbiamo, diciamo, subodorato la situazione, quindi abbiamo detto proviamo a fare, diciamo, un'ultima gitarella, quindi abbiamo scelto di andare a fare un giro, rimanendo sempre in regione perché comunque era già sconsigliato uscire dalla regione e fortunatamente la Lombardia è abbastanza ampia da permettere margine di manovra e siamo andati a vedere il paese di Soncino, che è un paese veramente veramente molto bello, in provincia di Cremona, perché abbiamo scelto Soncino? Prima di tutto perché è un bel borgo medievale e seconda cosa perché comunque, data la situazione contagi, abbiamo preferito puntare su un posto piccolino, evitando grosse città o comunque situazioni particolarmente affollate, il borgo è molto bello e non posso fare altro che lasciarvi alle immagini che abbiamo ripreso domenica. Prima adatto per vedere, per vedere questo casco. La stella, la nebbia, la giornata giudissima di autunno. Un buio più totale, stiamo a pezzare in più, e si paventano in più. Un buio più totale, stiamo a pezzare in più. Un buio più totale, stiamo a pezzare in più. Un buio più totale, stiamo a pezzare in più. Un buio più totale, stiamo a pezzare in più. Un buio più totale, stiamo a pezzare in più. Un buio più totale, stiamo a pezzare in più.